Il Consiglio di Contenzi di Milano è il Consiglio di Contenzi di Milano, riguardo la conversione degli altri dati, quindi col che parte al financio, come è crescluso il capo stesso che riguarda la sua materia. Allora, quindi le possibilità, la sua gestione di un'idea che non si può procedere rispetto a cose dati che noi crediamo potremmo, e che ci sono i suoi cittadini, ci posso essere una possibilità, come il Consiglio di Contenzi di Milano è il Consiglio individuo sugli altri dati e che si tratta dell'amministrazione e gli ultimi donati. Oppure, l'azienda è che si mostre da loro. Su questo, per esempio, direi che chi ha fatto già la protetta, quindi ha una competenza e potenza, che è concretista delle esponizioni. Allora, consigliere, Bene, io ric Pentenzi, riprendo alla parola, sono stata membro in gioco, Un reto, ho portato i numeri, sono uno di persone, sono i tecnici, la cioca di me, credo che andare a tutti, si avrà preso un intercettore, anche un ritmo, non scopare che ne è tutto, hanno una scelta gente, il libro, fanno solo, non scelta, stanno solo su un'esame, non fanno solo un'esame, non fanno solo un'esame, non fanno solo un'esame, non fanno solo un'esame, ma non ci sono come, se ci vuoi essere una doppia, inca la città, andiamo a fare! Credo che unito, con questa nuova, con questa nuova, di dare, di dare un seguito di braccio e non scopo le braccio, non scopo le bracci, non scopo le bracci, non scopo le braccio, non scopo le bracci. perché lui, a parte, sono la proposta dei che fa il ritenzi e ripeto il testo non venga di più, non ci vedo il testo, non è che mi lo venga a introdurre alla mia vita. E lui, consigliamo di accadere, di un caoletto e di un po' di più, di un po' di più, di un po' di più, al consigliere Echilandrano.